Oggi si è celebrata la Festa della Repubblica che ha sancito la fine del fascismo in Italia e ha dato il via alla moderna nazione che tutti conosciamo oggi. Motivo di orgoglio per tutti gli italiani in Canada, giugno è anche il mese del patrimonio italiano che simbolizza le tradizioni, la storia, la cultura degli italiani nel nostro paese e che tiene le comunità unita. Esponenti politici a tutti i livelli ci hanno lasciato il loro pensiero in merito. Oggi è la festa della Repubblica, che è il momento perfetto per a tutti i livelli un anno italiano. Per le generazioni, gli italiani italiani hanno fatto il nostro paese un più forte e migliore. Quindi non è sorpresa che durante questa pandemia, come sempre, questa comunità sta accorre per aiutare. Potremmo hai fatto fare i soldi per un bambino. Oltremmo sei uno di molti che ha aiutato a un milione di dollari per l'Italia Red Cross. Oltremmo sei una domanda, grazie. È solo che ciò che ciò che siamo più forti, insieme. Oltremmo sei una festa della Repubblica, il giorno che gli italiani italiani ha votato a una repubblica e una democrazia. E per noi, gli italiani italiani, italiani italiani o italiani italiani italiani, siamo un paese un paese un paese. Abbiamo ammogliato l'adoptimazione. Abbiamo ammogliato, abbiamo ammogliato, abbiamo ammogliato, abbiamo ammogliato. E al stesso tempo, siamo pronti di quanto l'Italia ha diventato come a Repubblica. E siamo pronti di quanto riguarda l'Italia che continuano con l'Italia italiani italiani e l'Italia. L'Italia italiana è una possibilità per tutti i nostri ammogliati. L'Italia è una possibilità di celebrare la cultura, l'heritazione e la contribuzione a Canada. What has made Canada such an inclusive and generous society is our multiculturalism. Is people coming from all over the world to construct a country which we now enjoy and we are blessed to live in. And italiani-Canadians should be very, very proud of their contributions to what Canada is, an inclusive and generous country. Innanzitutto colgo quest'occasione per congratularmi con la nostra bella Italia, la Festa della Repubblica. Un momento storico e ovviamente da sindaco della città di Vaughan, che è una delle città più italiane del mondo, in Nord America, oltre il 33% della popolazione qui ha la città di Vaughan di origine italiana. L'Italia per noi è molto importante, anche durante questo periodo del Covid, del virus del Covid-19, noi abbiamo sempre agito in solidarietà con l'Italia, perché sappiamo che l'Italia sta attraversando un periodo molto difficile. Comunque bisogna anche celebrare la nostra italianità, celebrare l'architettura, la cultura, l'arte, l'intelligenza, è il genio italiano di un popolo che ha dato molto a tante tante nazioni. La creatività dell'italiano, l'abilità di inventare, la grande abilità anche di lavorare, lavorare solo. E quanto non hanno trovato gli italiani opportunità proprio in Italia, hanno esportato questo grande talento per tutto il mondo. E allora ci sono dei grandi, grandi personaggi della storia italiana, una storia che credo di una nazione che ha contribuito molto al mondo, a livello globale. E oggi celebriamo questa nostra bella Italia e diciamo auguri all'Italia, anche per la festa della Repubblica, e per dire a tutti gli italiani, ovunque, dove si trovano, che il nostro cuore batte sempre con questa grande italianità e di continuare sempre a rispettare le nostre tradizioni e di essere fieri dei nostri valori.